Abbiamo addirittura fatto commuovere il presidente Maffei. Ce l'abbiamo fatta. Avevi qualche dubbio? Quando lavoriamo insieme siamo imbattibili. Bianca, ma stai ancora recitando la parte? Sono seria. Se rimaniamo unite chissà dove possiamo arrivare io e te. Ok, ok, ok. Iniziamo col tornare in accademia. Sarebbe un buon inizio. Andiamo? Arrivo. Grazie a tutti. Iniziamo col tornare in the jungle with the Lion King. Cause we will never give up. I got you, bad you, good night. And all together we'll make it somehow. Never give up. There's more friends and poor. Never give up. You are heroes for. Cause we will never give up. Grazie a tutti.